attenzione informiamo che dalle ore 23 e 20 di venerdì 12 gennaio alle ore 12 di domenica 14 gennaio per lavori di manutenzione programmata nella stazione di roma tiburtina alcuni treni lunga percorrenza subiscono variazioni o cancellazioni maggiori informazioni sui canali web o presso assistenza clienti e biglietterie il treno frecciarossa 9409 di trenitalia proveniente da udine e diretto a napoli centrale delle ore 8 e 13 è in arrivo al binario 6 carrozze dalla 1 alla 4 in coda al treno dalla 5 alla 7 centro treno dalla 8 alla 11 testa treno attenzione allontanarsi dalla linea gialla carrozze dalla 1 alla 4 in coda al treno dalla 5 alla 7 centro treno dalla 8 alla 11 testa treno il treno frecciarossa 9409 di trenitalia proveniente da udine e diretto a napoli centrale delle ore 8 e 13 e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a venezia mestre padova ferrara bologna centrale firenze santa maria novella roma di burchina roma terli carrozze dalla 1 alla 4 in coda al treno dalla 5 alla 7 centro treno dalla 8 alla 11 testa treno trenitalia special eurostra regionale train 31653 from internet to midano centrale with schedule departure of 1503 is now arriving at platform 6 instead of platform 1 this train will call us benessia mestre padova vicenza verona portano over desentano brescia first class coaches are located at the rear of the train il treno straordinario eurostar italia 31 653 di trenitalia proveniente da udine e diretto a milano centrale delle ore 15 e 03 è in arrivo al binario 6 invece che al binario 1 la prima classe in coda al treno attenzione allontanarsi dalla linea gialla la prima classe in coda al treno il treno straordinario eurostar italia 31 653 di trenitalia proveniente da udine e diretto a milano centrale delle ore 15 e 03 è in arrivo al binario 6 invece che al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a venezia mestre padova vicenza per una porta nuova gesezzano brescia la prima classe in coda al treno la tribolazione di credi a seguito dell'investimento di una persona è in graduale ripresa classe in coda al treno